Buonasera a tutti ragazzi, venuti in questo nuovo vlog, prima di iniziare lasciate un like perché non ti senti niente, siamo in mezzo a casa ovviamente noi ci sarò adesso perché da un po' ci sarà tanta buscati, è difficile che sentite quello che io dico quindi non lo so se mi sentite, non puoi sentite, mi sentite, battete un like poi noi siamo qui, siamo venuti con quella riferimento a mano scusso perché ci è piaciuta la riferimento a mano però se volete mangiare, non mangiare perché mi squiscio, però stasera si balla stasera si balla, la settimana scorsa stava la partita, ma stasera si balla e si si balla, ma potete notare la mia pezziata, non manda un pezzo notate la mia sfumatura di occhiaie, guardate ragazzi a me sinceramente non mi piace perché non lego più ma io non sono una ragazza di sapone comunque ragazzi, adesso finiamo le pizze di pomo, però io compio cosco, quindi vi farò vedere il romo però vi faremo a mangiare ecco le nostre pizze Carmine già sta mangiando io mi sono fatta un ripieno, mozzarella e pomodoro io mi sono fatta un ripieno, Carmine, tutte le casaline e Margherita e poi qua cantano poi c'è Antonio il pizzaiolo, c'è Gina che ha detto no alla dieta brava, brava Gina, brava, poi ci sono io che... ok, allora, poi vogliamo, vogliamo, vogliamo studarvi ti sei fatto un altro che ha passato le ferite dentro me che non aveva un raggiunto amore, sono qui a divenderti con il tempo guardo il tuo cuore, accellando i limiti e per tutti i giorni che verranno ti respirerò io ti dirò le cose che vorrei in questo cuore non ci faremo grazie il mio petto da cuscino per la vita mi farà sempre ha cominciato a già una storia senza fine non ci faremo, non ci faremo, non ci faremo ragazzi, avete scopertata ma stai cariata sono la nascita, vai lì, stavate con la nascita non ci mi sa mai mai dietro, ma faccio a questo amore non mi ricorda, non mi ricorda, non mi ricorda e sto facendo giudare chi non ci faremo č tu non c'è ma se c'è donna, anche se è piccola l'età non c'è ancora, nemmeno l'am verrà mai desidera già non c'è due subacchire non c'è assenza ma mature clemenza, anche se è piccola senza più sometimes a rbenzare quand tu andar Siamo arrivati alla fine di questa serata, è molto importante che ho cantato Un jeans e una maglietta, una faccia, acqua e bagno, cercalo se vuoi, supe se buca sui Un bacio, un abbraccio, un bacio Eccoci qua ragazzi siamo appena tornati nella mia bellissima cameretta, siamo appena tornati quindi a casa Adesso lo devo subire anche tutta la notte perché deve dormire qua questo pacchettone E niente adesso facciamo qualcosa, quando andiamo a dormire perché io non andiamo a dormire Adesso io mi azzeccherò vicino al computer, lui ci azzeccherò vicino al telefono quindi questo facciamo E niente ragazzi se questo vlog vi è piaciuto lasciate un bel like Dovete lasciare il like soprattutto per la grande cantata di Carmine E lasciate un bel commento dove mi dovete dire chi è stato più bravo a cantare tra me e Carmine Lo so già a prescindere che sceglierete me perché comunque io sono il top del top Per ragazzi nella maglia della maglia io sono il top Vabbè squalidissima, dopo questa me ne vado A tutti e ci vediamo nel prossimo video, ciao belli Ciao